In una diretta che si è svolta nel gruppo I nemici del destino, Senza Logica Malsicogita ha sostenuto che una dimostrazione deduttiva sia più cogente di un'argomentazione elenctica come quella che ha proposto Severino per sostenere la incontrovertibilità della verità del principio di opposizione, quello che Severino ha rilevato essere la struttura effettiva del principio di non contraddizione, la sintesi tra il principio di identità e quello di differenza. Perché questa opinione di Senza Logica Malsicogita è sbagliata? Perché qualunque dimostrazione di tipo deduttivo richiede che sia vero il principio di non contraddizione, cioè richiede che le premesse e la conclusione siano ciò che è stato posto e non altro, questo è il principio di non contraddizione e richiede che anche la connessione logica tra premesse e conclusione sia quel che è e non altro da sé. Questo è il principio di non contraddizione o meglio ancora il principio di opposizione che è la forma rigorizzata del principio di non contraddizione. Per cui argomenti elenctici come quelli severiniani che sono tesi a giustificare, a esibire la prova della incontroversibilità di questo principio, non possono essere meno cogenti di una dimostrazione logica deduttiva, in quanto una dimostrazione logica deduttiva richiede che sia vero senza però dimostrarlo e giustificarlo quel che invece gli argomenti elenctici severiniani si impegnano a giustificare, mostrando la immediata verità di questo principio che è congiunta all'immediata autonegazione dell'ipotesi contraria. Un argomento, un'esposizione può indicare un contenuto veritiero che ha un carattere di prova, a prescindere dal fatto che si articoli solo come una dimostrazione deduttiva o indichi qualcosa che risulti immediatamente vero perché risulta immediatamente falsa la sua negazione. Quel che conta affinché qualcosa sia coggente è che mostri una prova di ciò che lo riguarda, che questa prova sia ottenuta attraverso una dimostrazione deduttiva o sia indicata, mostrata all'interno di un'esposizione discorsiva che intende rivolgersi a un contenuto che non necessariamente corrisponde all'ordine discorsivo, come nel caso della struttura originaria in cui l'ordine logico non corrisponde all'ordine discorsivo proprio perché l'ordine logico della struttura originaria è sintesi originaria, in cui i suoi termini non vengono uno dopo l'altro ma uno assieme all'altro in origine. E tale piano della sintesi include anche in sé il piano della sua analisi, che è quello dell'articolazione logica interna, la cui poi esposizione porta ad esporre i termini uno dopo l'altro, ma questo non implica che questo venire uno dopo l'altro sia anche un loro essere logicamente antecedenti uno rispetto all'altro. Per i motivi che ho spiegato ritengo quindi che sia sbagliato sostenere che una dimostrazione logica deduttiva sia più cogente della prova esibita da Severino per la verità incontrovertibile del principio di opposizione, in quanto il fatto stesso che questo principio debba essere assunto a priori nella stessa dimostrazione deduttiva e nella stessa ipotesi che il principio non sia principale rispetto a qualsiasi altro elemento sul piano espositivo, conferma, è già di per sé una prova immediata della sua necessità, è più una sorta di constatazione. Il fatto che poi questa constatazione la si esponga attraverso degli argomenti non vuol dire che le ragioni della sua cogenza, della sua evidenza si riducano all'esposizione stessa ma ciò che sta indicando quella esposizione. Quindi non è che le ragioni immediate di questo fatto, della incontrovertibilità del principio di opposizione, del fatto che esso proprio in quanto è condizione indispensabile, principale anche solo per articolare un qualsiasi discorso e per affermare un qualsiasi dire, sia di per sé una prova incontrovertibile della sua verità. Non va confuso con il fatto che questa constatazione, questo fatto venga esposto discorsivamente e che il discorso sia strutturato secondo un certo tipo di connessioni logiche al suo interno. Ma appunto, lo si ripeta, le ragioni di questo fatto non sono riducibili a quanto un certo tipo di esposizione indica a tal riguardo. Risulta invece, come si è detto, che una qualsiasi dimostrazione deduttiva richiede prima di articolarsi che sia vero il principio di opposizione, per ogni suo aspetto, per le premesse, per le conclusioni, per la loro congiunzione. Le stesse regole di inferenza richiedono per significare che valga innanzitutto il principio di opposizione, perché altrimenti, se non fossero poste conformemente al principio, la loro funzione sintattica sarebbe negata, non sarebbe determinata, in quanto essa è data in modo determinato, solo se è dato il loro significato, che è la loro stessa funzione. E' quindi per questi motivi che una dimostrazione deduttiva non può avere un valore più cogente delle prove elenctiche che ha esibito Severino nei suoi scritti riguardo al principio di opposizione.